Buonasera a tutti voi che ci seguite da lontano e ovviamente un saluto carissimo a Vittorio Morfino che è con noi questa sera per questa altra lezione del ciclo pensato da Fulvio Papi, la filosofia come autobiografia dell'Europa. L'argomento della lezione di Morfino è così concordato, l'antropologia del lavoro da Locke a Mars, argomento affascinante. Sentiamo Vittorio la tua lezione, a te la parola. Grazie Ferruccio, grazie dell'invito, è sempre un piacere essere qui con voi e comincio la lezione. Allora un tema come l'antropologia del lavoro da Locke a Marx, tema che mi è stato proposto da Ferruccio e che ho accettato di buon grado di svolgere, richiede in sé per essere affrontato alcune considerazioni preliminari, a maggior ragione se esso fa parte di un ciclo intitolato Filosofia come autobiografia dell'Europa. In primo luogo va detto che nella classicità del titolo, da Locke a Marx, si annida il rischio di pensare una porzione di tempo storico in modo puramente cronologico, mentre è necessaria una ricostruzione concettuale perché un percorso del genere prenda senso. Ed è precisamente alla luce di una tale ricostruzione che divenne possibile una selezione degli autori da prendere in considerazione e di quelli da escludere. In questo senso sarebbe ragionevole pensare ad un percorso che da Locke passi per Smith e Riccardo e si concluda con Hegel e Marx. Naturalmente è un percorso che potrò svolgere solo in parte perché sarebbe troppo ampio in questi termini. Ovviamente questo non deve farci pensare ad un filo continuo ed unico che costituisce l'unico tempo dello svolgersi della modernità, né si può pensare che la serie cronologica degli autori corrisponda ad una qualche logica interna. La selezione e la successione cronologica ci fanno perdere il contesto di ogni presa di posizione teorica, ma anche la complessità di ogni passaggio che non ha mai la forma di una deduzione logica. In secondo luogo, nella porzione cronologica di tempo così ritagliato, si rischia di perdere l'elemento della discontinuità, sia al suo interno che verso l'esterno. Il pensiero di John Locke rappresenta infatti una discontinuità radicale rispetto alla storia precedente, la fondazione della teoria moderna della proprietà e l'abbozzo, almeno così può essere letto a Precu, di una teoria del valore lavoro. Locke rappresenta un inizio radicale nella filosofia, la fondazione di quella concezione che con MacPherson possiamo chiamare Possessive Individualism, individualismo possessivo. Il fatto che noi si sia completamente immersi in una ideologia, in una concezione del mondo individualista e proprietaria, potrebbe impedirci di cogliere la radicalità di questo inizio. Su questo rinvio a vita attiva di Hannah Arendt, che mostra bene il prima e il poro. In secondo luogo, il pensiero di Marx, lungi dal poter essere considerato in continuità con questa sequenza, come crede molta parte della critica e, per esempio, un autore importante come Foucault, stabilisce rispetto ad essa una discontinuità altrettanto radicale. In termini spinozisti potremmo dire che è la discontinuità della ragione rispetto all'immaginazione o, nei termini più precisi della seconda parte dell'etica, della scienza delle premesse rispetto alla scienza delle conseguenze. Terza e ultima considerazione preliminare, che si sovrappone in parte alla seconda, ha a che fare con il titolo del ciclo, la filosofia come autobiografia. Nell'introduzione a Per la critica dell'economia politica, un testo del 59, Marx scrive «Come non si può giudicare un uomo dall'idea che egli ha di se stesso, così non si può giudicare un'epoca dalla coscienza che essa ha di se stessa. Occorre invece spiegare questa coscienza con le contraddizioni della vita materiale, eccetera, eccetera. Si tratta di un passo di estremo interesse non solo perché ci offre una cautela metodologica fondamentale, ma perché ci mostra la nostra sequenza come un campo di battaglia. Da una parte Locke, l'inventore del concetto moderno di coscienza. Dall'altro Marx, colui che formulando il concetto di ideologia ne ha negato la trasparenza e l'originarietà. Ma seguiamo in primo luogo l'indicazione di Marx e guardiamo oltre la pura teoria. L'intera sequenza Locke-Marx deve essere pensata dentro il complesso intreccio di processi storici che ha visto il sorgere del capitalismo. Ancora Marx, nelle forme che precedono il modo di produzione capitalistico, si tratta di una parte dei Grundrisse che è stato pubblicato anche separatamente, Marx, dicevo, ha individuato la specificità del modo di produzione capitalistico rispetto a tutti quelli che lo hanno preceduto. La parola specifica di Marx è trennung, separazione, scissione, la separazione del lavoro dai mezzi di produzione, la terra in particolare, e ciò che costituisce la specificità del modo di produzione capitalistico. Luca Basso, è un acuto studioso di Marx, ha mostrato come agisca in queste pagine di Marx una filosofia della storia che vede nei modi di produzione precapitalistici una sorta di unità originaria, un'unità organica, nel capitalismo il momento della scessione e nel comunismo una forma di unità più alta. Sarebbe all'opera in queste pagine una sorta di storia dell'individualità, prima incatenata nella sostanzialità, poi separata e autonoma nel capitalismo e infine potenziata nel comunismo. Qui naturalmente non è difficile riconoscere anche degli elementi hegeliani. Ma al di là di questi elementi di filosofia della storia, l'aspetto analitico chiave evidenziato da Marx è che il capitalismo, separando lavoratore e terra, produce, attraverso una varietà di violenze descritte nel capitolo 24 del capitale, produce, dicevo, l'individuo moderno. Da qui è necessario partire per comprendere il contesto storico della teoria di Locke. Locke è il pensatore dei primordi del capitalismo, il suo primo grande teorico. L'importanza storica del suo pensiero è enorme, ancorché spesso sottovalutata. Locke, e non Descartes, è l'inventore del concetto moderno di coscienza, anche se si dovrebbe aggiungere immediatamente che è inventore di questo concetto come il più grande dei cartesiani. Lascio la dimostrazione di questa mia proposizione un po' azzardata al futuro. Ed è sul concetto di self-consciousness, di autocoscienza, che Locke, nel capitolo 27 della seconda parte del saggio sull'intelletto umano, rifonda il concetto teologico-politico di persona. Teologico-giuridico, scusate, di persona. Consciousness, è questo il testo di Locke, is the perception of what passes in a man's own mind. La coscienza è la percezione di ciò che accade nella mente propria dell'uomo. Che questa percezione ci offra in trasparenza la verità di ciò che accade nella mente è precisamente ciò che da un lato Marx e dall'altro Freud metteranno radicalmente in discussione. Freud discute proprio del concetto di coscienza di Locke, senza nominarlo, nell'introduzione alla psicanalisi. Dice la mia scoperta teorica in qualche modo va oltre Locke, cioè la scoperta dell'inconscio. Ma andiamo oltre e vediamo l'altro contributo fondamentale offerto da Locke alla modernità, l'invenzione dell'homo economicus. Naturalmente questa invenzione va pensata dentro un effetto fondamentale prodotto dalla società capitalistica che Marx chiama feticismi. Questo effetto non consiste solo nell'attribuire a merci e denaro un valore in sé, allorché invece il loro valore è la conseguenza di relazioni sociali estremamente complesse. Ma ciò che Louis Dumont in Homo Equalis definisce come, cito, la separazione radicale degli aspetti economici dal tessuto sociale e la loro costituzione in un ambito autonomo. Con le parole di Karl Polany potremmo dire la disembedded economy. In altre parole il mondo disincantato di cui parla Max Weber è in realtà il frutto del più potente degli incantesimi, quello dell'economico come sfera separata. E ancor più interessante potremmo dire dell'economia politica come scienza di un mondo incantato. In termini anacronistici rispetto a Locke si tratta dell'autonomia della società civile come mercato. Ma veniamo al luogo specifico in cui Locke inventa il concetto di Homo economicus. Si tratta del secondo trattato sul governo. Naturalmente la lettura di Locke che proponiamo è al futuro anteriore, non è una lettura filologica, ma ci permette di cogliere in stato un ascendi l'affermarsi della dimensione economica contro la dimensione politica. Come noto, il primo trattato sul governo di Locke è un'opera polemica, il cui obiettivo è il patriarca di Robert Filmer. Filmer sosteneva che Adamo fu il primo monarca patriarcale, postulando una continuità tra l'autorità del padre di famiglia e del re nella società, dando luogo ad una visione organico-gerarchica del tutto sociale. Il re o padre regna per delega del signore ultimo, il creatore, dando luogo ad una subordinazione che si estende in egual modo agli uomini e ai non uomini, nel senso che il rapporto con animali e cose è pensato sotto la forma della sudditanza. In sintesi, una costruzione gerarchica in cui ogni elemento occupa un gradino della scala. Locke rompe in modo radicale con questa concezione di cui Filmer è semplicemente il paradigma più ravvicinato. Egli istituisce una separazione netta tra uomini e non uomini, in cui risiede il nesso su cui ha così tanto insistito al tusser fra umanesimo e economicismo. La differenza tra uomini e non uomini è costituita dalla proprietà. Dio ha dato la terra alla specie umana perché se ne appropriasse. Quanto agli uomini non c'è differenza tra di loro, essi sono tutti liberi e uguali agli occhi di Dio. In altre parole, la legge di natura di Locke presenta una gerarchia costruita su tre livelli, Dio, uomini, creature. Il rapporto tra livello superiore e livello inferiore è pensato in termini di proprietà, da qui la centralità della proprietà. Passiamo dunque da una concezione patriarcale in cui il politico è un'emanazione del teologico, ad una concezione incentrata sulla proprietà in cui il politico diviene una costruzione liberamente voluta da individui liberi ed eguali. Come scrive ancora Dumont, la proprietà, cito, domina la costruzione artificiale di un sistema politico a partire da atomi individuali. Fine della citazione. Vediamo nel secondo trattato, paragrafo 5, nella materialità della lettera, il luogo di fondazione della moderna antropologia del lavoro. Dio, come dice Re Davide, ha dato la terra ai figli degli uomini, l'ha data in comune a tutta l'umanità. Benché la terra, e questo è il paragrafo 25, scelgo dei passi perché sarebbe troppo lungo leggere tutto. Benché la terra e tutte le creature inferiori siano comuni a tutti gli uomini, ciascuno ha tuttavia la proprietà della sua persona. Concetto di persona che è stato fondato teoricamente nel saggio, come dicevamo. Su questa nessuno ha diritto alcuno all'infuori di lui. Il lavoro del suo corpo e l'opera delle sue mani, possiamo dire, sono propriamente suoi. Qualunque cosa dunque gli tolga dallo stato in cui la natura l'ha creata e lasciata e a essa incorpora al suo lavoro e vi intesse qualcosa che gli appartiene con ciò se l'appropria. Togliendo quell'oggetto dalla condizione comune in cui la natura l'ha posto, vi ha aggiunto col suo lavoro qualcosa che esclude il comune diritto degli altri uomini. E ancora, paragrafo 28, quel lavoro ha fondato una distinzione fra questi beni e i beni comuni. Vi ha aggiunto più di quanto non avesse fatto alla natura, madre a tutti i comuni, e così sono diventati suo diritto privato. E aggiunge sempre nello stesso paragrafo, così, l'erba che il mio cavallo ha brucato, le zolle che il mio servo ha dissodato, i minerali che ho portato alla luce in un luogo sul quale io abbia diritto in comune con altri, diventano mie proprietà, senza l'altrui designazione o consenso. Il lavoro che mi apparteneva e con cui ho tolto quei beni alla condizione comune in cui si trovavano ha istituito la mia proprietà su di essi. Il passaggio di Locke ha un'enorme importanza storica e teorica. L'invenzione della coscienza permette a Locke di fondare l'identità della persona e questa identità fonda la proprietà. Every man has a property in his own person. La prima proprietà è quella della propria persona. L'uomo è proprietario della sua persona e con essa del proprio corpo. Il lavoro del suo corpo e l'opera delle sue mani sono propriamente suoi. La proprietà privata è collocata nella costruzione teorica locchiana nello stato di natura e fondata sul lavoro. McPherson ha giustamente insistito sul secondo momento dello sviluppo della proprietà. L'invenzione della moneta sopprime le limitazioni iniziali legate alle reali possibilità di consumo di quanto ci si appropria, permettendo un'accumulazione illimitata di denaro e di terra. In un primo momento io con il lavoro mi appropio parte della natura, ma non posso in qualche modo accumulare dei prodotti che deperiscono, per esempio. Non ha senso secondo il primo livello. L'invenzione della moneta permette un'accumulazione illimitata e naturalmente questo è di importanza capitale per leggere la logica del capitalismo. Questo ordine naturale deve essere garantito dall'ordine politico. In altre parole la sfera politica come costruzione artificiale deve ergersi a garante di uno stato di natura costituito da individui proprietari che liberamente interagiscono sul mercato. Qui è interessante notare almeno di passaggio che nello stato di natura non solo il servo con il suo lavoro accresce la proprietà del padrone, ma viene giustificata anche la schiavitù di coloro che sono catturati in guerra. Scriverò che essi sono schiavi e per legge di natura soggetti al dominio assoluto e al potere incondizionato dei loro padroni. Sempre secondo trattato paragrafo 85. Non solo, a più riprese Locke fa riferimento al wild indian, all'indiano selvaggio che si aggira protervo e nocivo nelle foreste d'America. Il selvaggio indiano ignora il lavoro e dunque è assimilabile alle bestie selvagge che gli uomini civilizzati hanno il diritto di annientare. Su questo ha insistito molto Domenico Lossurdo in Controstoria del liberalismo. Ma torniamo alla proprietà fondata sul lavoro. Fornisce titolo di proprietà il lavoro del servo, ma evidentemente anche quello della donna, inferiore per natura, la cui libertà naturale viene completamente assorbita attraverso il patto colliugale all'interno della famiglia. Ma non solo il lavoro è il fondamento della proprietà, ne costituisce anche la misura. Si tratta di una lettura di Locke al futuro anteriore, come ho già detto, perché sarebbe filologicamente inesatto attribuire a Locke una teoria del valore lavoro, come ha sottolineato per esempio Schumpeter nella sua monumentale Storia dell'economia. Tuttavia non si può negare che una proposizione come la seguente possa essere letta in una sequenza con i teorici del valore lavoro. Vi leggo paragrafo 40, sempre del secondo trattato. Neppure è così strano come a prima vista può sembrare che la proprietà del lavoro potesse contare più della comunità della terra. È infatti il lavoro che crea in ogni cosa la differenza del valore e basta considerare quale differenza vi sia fra un acro di terra piantato a tabacco zucchero, seminato a frumento orzo e un acro della stessa terra lasciato in comune senza che nessuno lo coltivi, per comprendere che la parte di gran lunga più grande del valore è data dai frutti del lavoro. Credo si possa dire con un calcolo ancora molto modesto che dei prodotti della terra che servono alla sussistenza dell'uomo nove decimi sono effetto del lavoro. Anzi, se vogliamo giustamente valutare le cose come ci giungono fra mano e calcolare i diversi costi, distinguendo quelle che di esse dovuto esclusivamente alla natura e quello che è dovuto al lavoro, vedremo che nella maggior parte dei casi il 99% deve essere attribuito al lavoro. Ciò che in Locke è solo abbozzato nella ricchezza delle nazioni di Adam Smith è apertamente teorizzato. L'essenza della ricchezza risiede nel lavoro. Cito la riga d'esordio della ricchezza delle nazioni, il lavoro annuo di una nazione è il fondo che fornisce ad essa tutte le cose necessarie e comode della vita. Si tratta di una vera e propria rivoluzione rispetto alla teoria fisiocratica che vedeva nella natura e nella terra la fonte della ricchezza. Natura certo aiutata dal lavoro umano, l'agricoltura, ma si trattava di un punto secondario. Il valore di una merce sul mercato, secondo Smith, è determinato dalla quantità di lavoro in essa contenuto. Cito dalla ricchezza delle nazioni a pagina 119, il lavoro è la sola misura universale e precisa del valore, ossia la sola norma con la quale possiamo confrontare i valori delle differenti merci in tutti i tempi e luoghi. Fine della citazione. In cosa consiste questa precisa misurazione? Allo stato di natura, se così vogliamo chiamarlo, in realtà parla di un popolo di cacciatori. Il valore è determinato dal tempo di lavoro. Un castoro si scambierà con due cervi perché costa un lavoro doppio. La citazione esatta è se in un popolo di cacciatori uccidere un castoro costa di solito un lavoro doppio rispetto a quello che occorre per uccidere un cervo, un castoro si scambierà naturalmente per due cervi, avrà il valore di due cervi. Questo principio è applicato allo stato civile in cui vige la divisione del lavoro. Vi leggo il passaggio di Smith. Ogni uomo è ricco o povero nella misura in cui è in grado di concedersi i mezzi di sussistenza e di comodo e i piaceri della vita. Ma una volta affermatasi la divisione del lavoro, con il proprio lavoro si può ottenere soltanto una parte piccolissima di questi. La parte di gran lunga maggiore deve essere tratta dal lavoro degli altri. E quindi uno è ricco o povero secondo la quantità di lavoro di cui può disporre e che è in grado di acquistare. Il valore di ogni merce, per la persona che la possiede, che non intende usarla o consumarla personalmente, ma scambiarla con altre merci, è dunque uguale alla quantità di lavoro che le consente di acquistare o di avere a disposizione. Il lavoro è quindi la misura reale del valore di scambio di tutte le merci. Fine della citazione. E' la ricchezza a pagina 111. Tuttavia, nello stato civile, aggiunge subito Smith, la questione più complessa rispetto alla immagine del popolo di cacciatori. Infatti il prezzo di una merce deve pagare non solo il lavoro contenuto, ma anche profitti e rendite. In una società capitalistica il prodotto del lavoro non appartiene tutto al lavoratore. Nella maggior parte dei casi egli dovrà spartirlo col proprietario e dei capitali che lo occupano. La quantità di lavoro contenuto in una merce non è dunque più l'unica circostanza che determina la quantità di lavoro che essa può comandare, cioè che essa può scambiare. Una quantità deve spettare i profitti dei capitali che hanno anticipato i salari e fornito i mezzi di lavoro, un'altra ai proprietari fondiari che hanno affittato la terra. Da qui il paradosso che il lavoro comandato da una merce è superiore a quello che vi è contenuto. In realtà Smith qui confonde lavoro contenuto e salario pagato e questa confusione ci conduce direttamente a Marx. Naturalmente avevo sognato di passare anche per Riccardo e per Hegel, ma sarebbe un ciclo di lezioni e non una singola conferenza. Tuttavia, come ci avverte Althusser, questo errore, quello che noi abbiamo chiamato il paradosso di Smith, è costitutivo dell'economia politica. La svista non riguarda l'oggetto, dice Althusser, ma la visione stessa. In altre parole, non è un semplice errore, una mancanza, ma è in qualche modo una tenebra interna, dice Althusser, cioè qualcosa che costituisce la visione stessa dell'economia politica. Dell'economia politica, come dicevo prima, come scienza delle conseguenze, poi farò luce su queste espressioni, e come tale come ideologia di una società capitalistica. Il salario esprime il valore non del lavoro, ma della forza lavoro. Potremmo dire che in questa piccola differenza terminologica si annida tutto il nucleo della critica marxiana all'economia politica. Ma facciamo per il momento un passo indietro. È innegabile che un'antropologia del lavoro sia al centro dei testi chiave del giovane Marx. E qui lo dico con la cautela necessaria, perché voi sapete che questi testi sono stati messi in discussione in quanto testi unitari da tutta una serie di critici e dalla pubblicazione delle Marx-Engels-Gesamt-Ausgabe, cioè ci si dice che i manoscritti non sono veramente un'opera, ma sono una serie di appunti e lo stesso l'ideologia tedesca. Ma insomma, vi è senz'altro in questi appunti che sono stati poi editati come testi e che sono stati presi come testi per molti anni, per più di un secolo, vi è un'antropologia del lavoro all'opera. Dal romanzo filosofico dei manoscritti del 44, il lavoro alienato, alla filosofia della praxis delle tesi su Feuerbach, alla concezione materialistica della storia dell'ideologia tedesca. Anzi, da ognuno di questi testi potremmo dire a inizio una corrente marxista, potremmo pensare a Lukács, a Gramsci, ad Althusserl. Un'antropologia del lavoro nel cui nucleo fondamentale è iscritto un telos che fa segno verso una nuova società, una società comunista. Per ragioni di tempo mi dirigerò direttamente verso alcune pagine del capitale molto celebre, molto celebri forse perché costituiscono l'apertura del capitale, le pagine dedicate alla merce. L'apertura di Marx è molto famosa. La ricchezza nelle società nelle quali predomina il modo di produzione capitalistico si presenta come un'immane raccolta di merci. La merce è dunque la forma elementare di questa ricchezza e Marx analizza questa forma elementare individuando da una parte il suo valore d'uso, valore d'uso che dipende dal corpo della merce, dalla sua materialità, e poi il valore. Valore che poi si traduce nel valore di scambio, cioè nella proporzione con cui i differenti valori d'uso si scambiano tra di loro. Il fatto che per esempio io posso scambiare un libro con quattro bicchieri per esempio come valore. Il perché è nascosto secondo Marx nella sostanza valorificante, cioè in ciò che costituisce il valore di queste merci e che poi ci dà la proporzione del loro scambio. E questa sostanza valorificante è per Marx il lavoro umano. Lavoro umano inteso, e qui cito proprio un termine di Marx, come forza lavoro sociale media. Tempo di lavoro, il valore di una merce, è dato in un luogo e in un tempo dati, dal tempo di lavoro socialmente necessario alla produzione di quella merce. Naturalmente è tempo socialmente necessario che cambia a seconda del tempo e del luogo in cui noi ci situiamo. Quindi, dice Marx, è soltanto la quantità di lavoro socialmente necessario per fornire un valore d'uso che determina la sua grandezza di valore. Il lavoro produce valore d'uso e valore di scambio della merce. Sia il valore d'uso che il valore di scambio sono prodotti dal lavoro. Ma attenzione, precisa Marx, il lavoro come formatore di valori d'uso, come lavoro utile, è una condizione di esistenza dell'uomo indipendente da tutte le forme di società. È una necessità, dice Marx, eterna della natura che ha la funzione di mediare il ricambio organico fra uomo e natura. È un passaggio famosissimo. Cantimori traduce il tedesco Stoffwechsel con ricambio organico. Si potrebbe tradurre anche con metabolismo, è stato tradotto. Quindi, il lavoro come produttore di valore d'uso è comune a tutte le società esistite. E qui sembra di sentire l'eco del colpo di cannone che apre l'ideologia tedesca e che rompe la concezione idealistica della storia. Il primo presupposto della storia umana è l'esistenza di individui umani viventi che naturalmente si riproducono dentro la natura. Il valore di scambio è invece un effetto specifico del modo di produzione capitalistico. Ora, condizione d'esistenza del prodotto del lavoro in quanto merce è la divisione sociale del lavoro. Dunque, il lavoro produce il valore d'uso in tutte le società ed il lavoro produce il valore di scambio nella società capitalistica. Quindi, qui c'è un punto importante. La cosiddetta legge del valore lavoro ha valenza, secondo Marx, se leggiamo Marx, in questi termini, solo all'interno della società capitalistica. A differenza di ciò che riteneva, per esempio, Smith, che vedeva la legge del valore lavoro allo stato più puro, per esempio, appunto, in un popolo di cacciatori, come abbiamo visto, ma anche di Engels, che ne fece una sorta di legge terra. Tuttavia, se è il lavoro a produrre tanto il valore d'uso che il valore di scambio della merce, esso produce il primo in quanto lavoro concreto e il secondo in quanto lavoro astratto che in qualche modo lascia negli oggetti prodotti, e cito Marx, una medesima spettrale oggettività, una semplice concrezione di lavoro umano indistinto, cioè dispendio di forza lavorativa umana senza riguardo alla forma del suo dispendio. Un ciabattino che produce una scarpa, naturalmente, come svolge nello stesso tempo un lavoro concreto nel produrre con la sua abilità quella scarpa, ma allo stesso tempo consuma... è un dispendio di forza lavoro umano, consuma forza lavoro umano, in un tempo di lavoro determinato. Quindi nel famoso ciclo di cui parla Marx, M-D-M, cioè merce, denaro, merce, noi abbiamo degli individui privati che si scambiano tra di loro delle merci nella proporzione dettata dal tempo di lavoro che ogni individuo ha dedicato alla loro produzione. Naturalmente in una società in cui vige la divisione del lavoro. Engels ha ipostatizzato questa formula, cioè merce, denaro, merce, pensandola riferita ad una immaginaria società mercantile semplice, in cui appunto vige la divisione del lavoro, gli individui si scambiano attraverso le merci in realtà il loro tempo di lavoro. Marx in realtà non immaginava affatto una società del genere. Quando parla del ciclo M-D-M, cioè merce, denaro, merce, si riferisce alla circolazione nella società capitalistica. Tuttavia qui sorge immediatamente un problema. Gli individui privati si scambiano attraverso le merci ed il denaro tempo di lavoro umano, senza tuttavia saperlo. Cioè lo fanno ma non lo sanno, dirà Marx. Poi vi leggerò il passo perché è molto bello. Questo è precisamente il contenuto della teoria marxiana del feticismo. Gli uomini si scambiano le merci come se non fossero prodotti del lavoro ed usano il denaro come se non fosse una merce, tra le altre merci, che ha un valore che dipende appunto dal lavoro necessario ad estrarre un metallo. Ma nella circolazione un terzo effetto feticistico è necessario. Quello della persona giuridica. Su questo ha insistito molto un giurista russo che si chiama Pashukhanis, che ora credo sia poco conosciuto, ma è stato importante nel Novecento. Le merci devono essere scambiate da individui che si riconoscono come liberi uguali, dotati di libera volontà per poter sottoscrivere un contratto privato di compravendita. Ecco come Marx espone la questione nel famosissimo paragrafo sul feticismo, che è l'ultimo paragrafo del primo capitolo del Capitale. Gli uomini dunque riferiscono l'uno all'altro i prodotti del loro lavoro come valori, non certo per il fatto che queste cose continuo per loro sono soltanto come puri involucri materiali di lavoro umano omogeneo. Viceversa, gli uomini equiparano l'un con l'altro i loro differenti lavori come lavoro umano, equiparando l'un con l'altro come valori nello scambio, i loro prodotti eterogenei. Non sanno di fare questo, ma lo fanno. Quindi il valore non porta scritto in fronte quel che è, anzi, il valore trasforma ogni prodotto di lavoro in un gerografico sociale. Se prendiamo l'effetto feticistico nel suo complesso, potremmo dire che esso designa il mondo della società civile, o meglio, l'illusione della società civile in cui individui liberi ed uguali si scambiano beni e denari. Illusione necessaria, prodotta dal modo di produzione capitalistica. Non è un semplice errore, è un effetto strutturale del modo di produzione capitalistica. Ma prima di andare avanti e vedere cosa c'è oltre questo effetto illusorio, ma necessario, va analizzato un problema. Gli individui si scambiano quote del loro tempo di lavoro privato, ma senza saperlo. Com'è possibile che questo accada senza supporre una sorta di mano invisibile o di Dio laibniziano immanente allo scambio che calcola alle spalle della coscienza degli individui privati le differenti quote di lavoro contenute nelle loro merci? Per rispondere a questa possibile obiezione bisogna scavare sotto il mondo della circolazione e dello scambio e scendere in quello che Marx chiama l'inferno della produzione, laddove si cela il segreto della creazione della ricchezza capitalistica, cioè il lavoro non pagato dell'operai. Qui gli individui privati che si scambiano beni, di cui sembra parlare all'inizio del capitale Marx, in realtà questi individui privati ci si rivelano come imprese private che producono sempre nuova ricchezza grazie al continuo sfruttamento della classe lavoratrice. Il salario infatti non corrisponde al valore del lavoro erogato dall'operaio, ma al valore di scambio della sua forza lavoro. La forza lavoro è una merce che come tutte le altre merci ha un valore di scambio e un valore d'uso. Il valore di scambio della forza lavoro equivale, come per ogni altra merce, alla quantità di lavoro necessario alla sua produzione, che nel caso della forza lavoro significa alla quantità di denaro necessario ad acquistare i mezzi di sussistenza che servono per presentarsi giorno dopo giorno, mese dopo mese, ogni mattina ai cancelli della fabbrica. È importante che non sia di più del necessario perché altrimenti ovviamente non ci si presenta ai cancelli della fabbrica. Non c'è profitto, non c'è rendita né interesse senza questa continua estrazione di plus lavoro. Ma allora, ora potremmo vedere più chiaro nell'enigma del lavoro astratto, nell'obiezione che avevo fatto al testo di Marx. Il lavoro astratto non è tale in quanto astrazione operata dalla mente di un Dio immanente rispetto ai singoli lavori concreti, il vecchio Dio buon orologiaio di Leibniz. La risposta rispetto all'enigma del valore astratto si cela nel breve capitolo 11 sulla cooperazione. È infatti dentro la manifattura capitalistica e poi nella grande industria che il lavoro diventa materialmente astratto, fattualmente astratto. Si crea dentro la manifattura prima e poi ancora in modo più potente dentro la grande industria quella giornata sociale media che fornisce la misura del valore. E questo non per semplice contagio o emulazione per il venire a contatto degli operai tra di loro, anche, certo, Marx lo sottolinea, ma la creazione del lavoro astratto è dovuta soprattutto all'effetto del comando capitalistico, alla sorveglianza, alla violenza che viene esercitata istante dopo istante sul luogo di lavoro dal comando capitalistico, dal controllo del comando capitalistico. È proprio nell'inferno della produzione che si genere il lavoro astratto. E naturalmente si genera dentro ogni singola fabbrica, ma, Marx dice, per la concorrenza dei molti capitali qui sì c'è un contagio del controllo della forza lavoro, perché naturalmente il capitalista che, come dire, lascia lavorare gli operai a dei ritmi blandi viene immediatamente eliminato dal mercato. Il buon capitalista non può esistere, come direbbe Machiavelli, conviene che muoia se vuole essere buono tra tanti cattivi. Per concludere, vorrei fare un breve cenno ad una critica. Devo dire, queste analisi di Marx a me sembra che funzionino ancora perfettamente rispetto alla società contemporanea, ma naturalmente c'è una critica che, a mio avviso, va fatta e che ci permette di vedere meglio lo sfruttamento del lavoro su cui si regge la società capitalistica. Se infatti la teoria marxiana ci mostra l'origine del plusvalore dallo sfruttamento del lavoro nell'inferno della produzione, inferno che naturalmente ha differenti gironi nelle differenti parti del mondo e all'interno di ogni singolo paese, è rimasto totalmente cieco di fronte al lavoro di riproduzione. Certo, gli scritti di Marx, in particolare il Capitale, guardano alla prima rivoluzione industriale, dove uomini, donne e bambini vengono messi al lavoro in fabbrica per un numero di ore disumano. Non coglie gli effetti della seconda rivoluzione industriale, la nascita della famiglia nucleare, quella che Silvia Federici, una femminista marxista tra le più interessanti, a mio avviso, chiama l'invenzione della casalinga a tempo pieno. Non è che il marxismo non abbia colto l'esistenza dei rapporti patriarcali, ci sono tutta una serie di testi di Marx e di Engels che denunciano questi rapporti. Semplicemente ha inserito la loro dissoluzione dentro il telos della dissoluzione del rapporto salariale. Cioè, nella società comunista, Marx e Engels si immaginavano che non ci sarebbero stati più rapporti patriarcali. Silvia Federici sottolinea invece come il funzionamento della società capitalistica non si dia solo attraverso l'estrazione di plus lavoro nella giornata lavorativa dell'operaio, ma anche attraverso lo sfruttamento di casalinghe a tempo pieno dedicate completamente alla riproduzione delle condizioni che permettono la produzione di plus valore. Il lavoro di cura della forza lavoro presente e futura da cui continuare a estrarre tempo di plus lavoro. Lavoro di cura per creare il quale è stato necessario per usare la parola di Gramsci un potente dressage e la creazione di una nuova figura antropologica la casalinga rispettabile separata dalla operaia e dalla prostituta. Su questa critica che mi sembra una delle più acute rivolte a Marx chiudo il mio intervento e naturalmente rinvio a eventuale discussione. Grazie Vittorio grazie per la puntuale ricostruzione del celebre passaggio Locke Smith Marx l'hai proprio ricostruito con grande grande puntualità. Adesso vediamo come sempre chiedo vediamo se ci sono domande da parte dei nostri ascoltatori cerchiamo sempre di favorire questo dialogo anche con chi ci ascolta come facciamo quando possiamo farlo dal vivo ma non ci sono domande c'è scritto non ci sono domande vediamo vediamo un attimo come dire la tua ricostruzione è assolutamente perfetta quindi non c'è non si può come dire che sottolineare la puntualità della cosa il punto man mano ti ascoltavo come sempre quando ci si immerge in queste riflessioni mi viene in mente e poi tu sai qual è il vero punto della questione di questa teoria del valore lavoro oggi come dire secondo te la trovi ancora capace di interpretare quello che sta accadendo intorno a noi questo è il punto come dire a cui si liga un'altra questione che però è intimamente collegata a questo cioè la potenza dell'equazione di Mars stava nel fatto che oltre a denunciare questa caratteristica del lavoro lavoro lui sapeva indicare naturalmente anche la forza che metteva in discussione questa situazione e cooperava quindi la possibilità di un'erappropriazione piena del valore lavoro da parte dei lavoratori il punto vero oggi il punto vero che ci tormenta oggi è il fatto che non riusciamo più a dare come è concretezza questa seconda parte fondamentale portante del ragionamento di Mars non riusciamo più a trovare dov'è il soggetto che riesce a operare questa riappropriazione del lavoro da parte del lavoro questo è il punto mi sembra mi piacerebbe da parte tua ci fosse uno sviluppo del ragionamento ecco per andare avanti rispetto alle costruzioni così puntuali che hai fatto del passaggio da Locke Smith a Mars quindi vediamo di ragionare sull'indicazione per Locke allora naturalmente non è che io abbia delle risposte sarebbe presuntuoso da parte mia pensare di avere risposte a dei problemi sono i suoi tormenti delle nostre decisioni posso dare diciamo una risposta che non ci dice allora la teoria del valore lavoro così come si presenta in Marx se è lecita chiamarla così se è lecito chiamarla così perché appunto rappresenta una discontinuità rispetto alle teorie precedenti a mio avviso è una costruzione teorica che incontra poi la realtà e la realtà ci dà dei segnali in quella direzione a mio avviso basta osservare l'assoluto isterismo della confindustria nei due mesi di lockdown di fronte alla possibilità che gli operai non andassero a lavorare perché non solo venivano sfruttati ma mettevano a rischio la loro vita insomma andare a lavorare significava mettere a rischio la loro vita e quello che si paventava era una crisi economica di portata enorme la ricchezza è prodotta dal lavoro e ce lo dimostrano gli imprenditori giorno dopo giorno certo raccontandoci che in realtà loro sono dei benefattori che creano lavoro che ci danno la possibilità di vivere di sopravvivere e poi un altro elemento che mi sembra fondamentale che valga ancora oggi o forse ancora di più di ieri è il fatto che sostanzialmente noi o nasciamo proprietari di mezzi di produzione o se non nasciamo proprietari di mezzi di produzione noi ci dobbiamo alzare tutte le mattine e andare a procacciarci il salario di fronte che salario che ci permette ci permetteva in passato forse nel novecento in alcune situazioni privilegiate di riprodurre la propria forza lavoro oggi siamo di fronte a situazioni in cui vengono offerti dei salari che non permettono assolutamente di vivere e anche a situazioni molto vicine allo schiavismo ne abbiamo avuto un esempio in Lombardia recentemente cioè qui perché si fa sempre l'esempio degli immigrati che raccolgono i pomodori ma in realtà ce l'abbiamo avuto qui di fianco a casa nostra insomma e sull'altra questione la questione della forza che è in grado di proporre una soluzione allora a mio avviso la soluzione che proponeva Marx era strettamente legata alla prima e probabilmente anche alla seconda rivoluzione industriale cioè Marx diceva da una parte la proprietà privata stessa dimostra il rapporto di produzione diciamo dimostra la sua inadeguatezza rispetto a questo enorme spiegarsi di forze produttive cioè queste fabbriche gigantesche Marx fa delle descrizioni straordinarie quasi liriche del funzionamento di queste macchine gigantesche che sono usa metafore meccaniche e metafore organiche insieme per descrivere questi mostri che funzionano con dei ritmi straordinari e quindi da una parte questo e dall'altra la concentrazione della classe operaia in grandi città quindi si aveva una concentrazione che permetteva una lotta sindacale la costituzione di grandi partiti politici operari questo è stato l'ottocento la seconda metà dell'ottocento e gran parte del novecento ora naturalmente c'è stata una risposta capitalistica a tutto questo lo spostamento delle fabbriche il decentramento dove diciamo per esempio i diritti operai sono meno forti si vengono spostate le fabbriche dove i diritti operai sono meno forti il lavoro costa meno e poi diceva Sergio Bologna in una conferenza che ha fatto recentemente sono stati disarticolati i lavori per cui in realtà gli operai non si incontrano più e quindi non sentono più di appartenere ad una stessa classe in un certo senso così come il lavoro astratto non è appunto l'astrazione di un'intelligenza perché appunto di quale intelligenza chi potrebbe fare questa astrazione ma è il prodotto materiale di uno sviluppo prima manifatturiero e poi industriale anche la concentrazione della classe operaia è stato l'effetto di uno sviluppo storico e diciamo che dagli anni 90 in poi c'è stata proprio una destrutturazione di questa centralità operaia e naturalmente che ha a che fare anche da una parte con grandi sconfitte politiche la caduta del muro di Berlino le cadute del socialismo reale e dall'altra con nuovi metodi produttivi che permettono di oggi un esempio classico sono i riders di cui le nostre città sono state piene nei momenti del lockdown che però lavorano strettamente separati dall'algoritmo cioè è molto difficile costituire un fronte anche se per esempio questo ha iniziato ad essere costituito per cui non ho soluzioni ovviamente la teoria a mio avviso può proporre analisi non può proporre soluzioni politiche diciamo che la ricerca del soggetto rivoluzionario è stata una ricerca che insomma ha occupato tutti i teorici di sinistra dagli anni ottanta in poi ma a mio avviso certo bisogna pensare nuove alleanze nuove articolazioni sulla base di nuove analisi ma io credo che una soluzione non sarebbe altro che una filosofia della storia il rischio di proporre una filosofia della storia dove in realtà Marx e Engels si hanno costruito una filosofia della storia ma è una filosofia della storia che partiva da dei dati come dire di processi storici concreti dalla centralizzazione della classe operaia nelle grandi città dalle comunicazioni che permettevano più facilmente di mettersi in contatto e quindi di propagare dei messaggi politici ecco io propongo una risposta di questo genere che non risolve nulla e non la tua risposta capisco che poi le ricerche ci accomunano tutte allora te la formulo diversamente la domanda nel modo più semplice però più simile se questa antropologia del lavoro che tu hai discusso che tu hai fatto emergere così secondo te riesce essere strumento analitico anche per leggere la società dell'informazione e della comunicazione dominata dalle nuove tecnologie questa in fin dei conti è la vera questione che abbiamo dinanzi in questo senso mi sento di formularvi una domanda in questi termini Ferruccio ho perso tre o quattro parole tue chiedevo se questa antropologia del lavoro che tu hai ricostruito così puntualmente tu pensi che riesca a essere come viva come strumento analitico anche per interpretare e leggere la società della comunicazione dell'informazione dominata dalle nuove tecnologie perché poi questo è il vero punto secondo me su cui dobbiamo metterci come dire a pensare seriamente ma io ecco su questo sinceramente devo dire non so su questo non so ci sono naturalmente dei teorici che dicono di sì che è possibile ma non saprei però quando noi parliamo di società della comunicazione non dobbiamo dimenticare che in realtà esistono ancora delle enormi vittorio non ti sento vittorio ti ho perso ho perso la tua risposta ti sei bloccato no 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 ma anch'io non mi sono fermato perché ho visto che diceva che non c'era una buona connessione no dicevo che a mio avviso non bisogna cadere in una sorta di anche qui filosofia della storia naturalmente per esempio l'operaismo analizza sempre la fase più alta dello sviluppo capitalistico a mio avviso dobbiamo tenere presente che accanto alla società della comunità della comunicazione c'è anche una società in cui come dire l'industria sfrutta il lavoro come ai tempi della rivoluzione industriale se non in modo ancora più più violento cioè ci sono ci sono diversi modi di sfruttamento che possono andare appunto dallo sfruttamento del lavoro intellettuale allo sfruttamento del lavoro manuale fino quasi allo schiavismo insomma credo che non non si debba perdere la cognizione del fatto che certamente noi viviamo in una società che in qualche modo è andata al di là di certe forme di sfruttamento ma solo in una piccola parte perché poi se andiamo a grattare sotto l'immagine che questa società dà di se stessa vediamo delle forme di sfruttamento terrificanti per cui e questo naturalmente tanto meno è saputo quanto più ovviamente questo noi lo possiamo sapere solo attraverso l'organizzazione di organizzazione politica di questi soggetti che vengono sfruttati c'è una narrazione che è una narrazione ideologica che naturalmente tende a legittimare questa società a dirci che va bene così e poi in cui naturalmente le forme schiavistiche sono l'eccezione ogni tanto c'è la forma criminale che viene pescata e l'eccezione in realtà io tenderei a pensare che è piuttosto la regola cioè il capitalismo non può vivere di moderazione il capitalismo può vivere solo non perché appunto il singolo capitalista è malvagio ma perché il singolo capitalista non sopravvive se non a spese degli altri per cui in una concorrenza costante cioè l'inverso della mano invisibile di Smith mentre Smith diceva che facendo gli interessi privati noi in realtà facciamo il bene comune per una sorta di piano invisibile di provvidenza divina in realtà Marx ci dice che la concorrenza spinge necessariamente il capitalista a estrarre la maggior quantità possibile poi noi possiamo dirci ma questa teoria è una teoria sostanzialistica cosa diavolo significa ma poi se noi andiamo a parlare con i lavoratori l'esperienza dei singoli lavoratori è che vengono controllati le loro pause vengono ridotte vengono come dire cronometrati i momenti in cui vanno in bagno viene cronometrata la pausa pranzo e questo che cosa ci dice ci dice che il capitalista cerca di estrarre la maggior quantità di lavoro possibile da colui che lavora questo un po' a tutti i livelli persino da noi in università stanno cominciando ad estrarre la maggior quantità di un lavoro che in fondo era un lavoro molto rilassante sta diventando un lavoro in cui bisogna essere presenti e verbalizzare monitorare insomma soprattutto naturalmente bisogna testimoniare che questo lavoro è stato svolto dove appunto in ambiti in cui è un pochino più difficile vediamo una curazione Tomasi c'è una domanda dei nostri ascoltatori Gene Paone è la forza allora la forza della coscienza di classe il soggetto che oggi può recuperare il valore del lavoro beh sì è la forza della coscienza di classe tenendo presente appunto che io citavo citavo Silvia Federici che è una femminista marxista molto interessante di cui non condivido necessariamente le conclusioni ma trovo che le sue analisi siano molto interessanti cioè forse è pensare nuove forme di alleanza tra gli sfruttati ecco tra chi vuole in qualche modo combattere il capitalismo e quindi per esempio una cosa di cui non ho parlato ma che è evidente in in alcune parti in alcune tendenze del marxismo è un'eccessiva sottolineatura dell'importanza delle forze produttive il fatto che le forze produttive in qualche modo da sole ci porteranno alla liberazione ecco le forze produttive naturalmente una lotta ecologica radicale così come una lotta femminista radicale in qualche modo ci permette di ripensare anche la teoria marxista ci sono dei bei testi in cui si è dimostrato come sia Marx che Engels soprattutto negli ultimi anni avessero una sensibilità per Marx lo dice chiaramente il capitalismo può esistere solo distruggendo costantemente le due fonti che producono la sua ricchezza la natura e il lavoro massacra i lavoratori perché in effetti li 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 spreme all'inverosimile e spreme all'inverosimile la natura ora non si può dire che nel socialismo reale questa sensibilità ecologista di Marx e di Engels fosse stata tenuta presente naturalmente per cui io penserei più che riproporre una un soggetto pieno della storia che va verso la liberazione attraverso una coscienza di classe trasparente mi sembrerebbe ma su questo francamente io non voglio fare il profeta cioè non ho soluzioni mi sembrerebbe più più adatto alla situazione pensare delle strategie in cui si uniscono sensibilità differenti e la sensibilità ecologica verso un mondo che è stato devastato dal capitalismo la sensibilità naturalmente per le lotte femministe che a mio avviso sono di importanza cruciale e naturalmente la sensibilità per il lavoro in fabbrica per lo sfruttamento unendo più elementi credo purtroppo queste tradizioni spesso non sono state in dialogo tra di loro e questo forse bisogna bisogna lavorare a costruire un dialogo cioè non prendere la lotta al patriarcato come unica spiegazione o la lotta di classe come unica spiegazione o la lotta per la natura come unica spiegazione cioè in realtà tutti questi queste lotte vanno a impattare se portate alle estreme conseguenze in modo molto duro con la società capitalistica cioè la società capitalistica non può funzionare di fronte a una lotta radicale che affermi per esempio il fatto che la natura non debba essere consumata in modo insensato o il fatto che la donna non debba essere sfruttata attraverso il lavoro di cura in modo barbaro tutti questi elementi a mio avviso possono comporre gli elementi di una nuova politica di liberazione vediamo ci sono altre domande allora lo smart working permetterà di ridiscutere su nuove basi il rapporto di lavoro dipendente allora su questo devo dire bisognerebbe fare delle analisi mi sembra che ci sia una sorta di ambivalenza su questa questione dello smart working perché da una parte lo smart working viene considerato come la vacanza uno se ne sta a casa non va a lavorare e naturalmente l'impresa capitalistica esercita un controllo sulla forza lavoro cioè quando noi siamo non sto dicendo in fabbrica ma anche un impiegato di banca viene controllato non può accedere durante l'ora di lavoro a determinati siti internet non si deve distrarre deve lavorare quindi si deve estrarre la maggior quantità di lavoro possibile da lui e quindi il fatto che se ne stia a casa è lo sottrae quasi a questa forma di controllo però da un altro lato ma qui bisognerebbe fare delle inchieste serie insomma io parlo semplicemente per aver chiacchierato con degli amici dall'altro lato la giornata lavorativa si estende all'infinito cioè con lo smart working non finisce mai la giornata lavorativa in qualsiasi ora adesso non voglio fare l'esempio del professore universitario che in fondo è un privilegiato però riunioni a qualsiasi ora naturalmente dove sei sei a casa c'è il lockdown quindi ci devi essere a tutte le riunioni a qualsiasi ora del giorno e quindi secondo me c'è un'ambivalenza nello smart working cioè da una parte ti sottrae al controllo più fisico più odioso forse dall'altra però in modo subdolo estende la giornata lavorativa oltre i suoi propri limiti per cui questo mi sembra ma sono più chiacchiere che non ho i dati per fare un discorso capisco vediamo altre domande vediamo il nostro regista prego andiamo incontro a un mondo dove sarà la regola un nuovo schiavo super sfruttato e controllato che soppianterà il lavoratore soprattutto se manuale ed esecutivo marx marx quando parla di lavoro salariato da una parte naturalmente dice il lavoro salariato è un lavoro erogato da uomini liberi cioè un uomo sceglie di stipulare un contratto di lavoro dall'altra parte però parla più volte di schiavitù del lavoro salariato nel senso che chi non ha nulla non può far altro che vendere la propria forza lavoro dall'altra parte c'è un altro problema che questo lavoratore deve essere anche un consumatore cioè dal fordismo in poi noi come dire gli sfruttati sono diventati anche consumatori di merci perché altrimenti il meccanismo si inceppa cioè si devono l'intuizione è stata quello di rendere gli operai stessi compratori delle merci che altri operai producono per cui siamo sfruttati siamo controllati e dobbiamo consumare adesso mi sembra che questa cosa delirante di riaprire sotto Natale perché bisogna andare a fare lo shopping natalizio mi sembra che sia un paradigma straordinario di questa visione anche qui non eccederei in filosofie della storia andiamo verso un mondo in cui dipende dalla nostra lotta dalla nostra capacità di lotta dalla nostra capacità di opporsi certo come dire è un mondo in cui lo sfruttamento c'è ma è un mondo in cui sono state fatte anche straordinarie conquiste tutto il novecento parlo per l'Italia si potrebbe parlare a livello europeo sono state fatte delle grandi conquiste che naturalmente non sono mai conquiste una volta per tutte perché come abbiamo visto il servizio sanitario nazionale è stato istituito e poi è stato piano piano smembrato e poi ci siamo ritrovati nella situazione in cui ci siamo ritrovati proprio per questo smembramento per cui diciamo i diritti sono in gioco diritti civili e diritti sociali sono sempre in gioco nella lotta non andiamo necessariamente verso l'abisso e non andiamo necessariamente verso la vittoria dipende dalla nostra capacità di organizzarci di lottare di far valere i nostri diritti andiamo altre domande quale ruolo gioca la rappresentanza sindacale in un contesto di sfruttamento dei lavoratori la rappresentanza sindacale gioca il ruolo di diciamo che gioca il suo ruolo cioè deve sottrarre porzioni di plus valore che poi si tramutano in profitto in rendita in interesse al capitalista e deve sottrarla sia in forma di un miglior salario cioè guadagnare parti di quel lavoro che l'operaio o il lavoratore dà gratuitamente all'imprenditore perché è sottoricato e la storia del novecento è stato questo è stata la conquista di grandi diritti cioè evidentemente il diritto all'istruzione il diritto alla salute sono tutte parti di plus valore della ricchezza operaia che ritornano all'operaio grazie alla conquista di questi diritti il diritto per esempio al periodo pre-gravidanza Engels e Marx fanno delle descrizioni raccapriccianti di donne che vanno a lavorare in fabbrica incinta fino all'ultimo giorno perché appunto questo diritto non lo hanno e naturalmente cedono quelle parti di la battaglia è sulla giornata lavorativa il sindacato si sente dire spesso il sindacato ha tradito a mio avviso questa è una concezione un po' moralistica del sindacato cioè il sindacato svolge il suo ruolo e deve svolgere un ruolo di contrattazione per lottare dentro la giornata lavorativa poi naturalmente se come riferimento ha un partito politico forte come è stato il PC per la CGL potrà svolgere un ruolo se si ritrova con un partito debole e con diciamo molte tendenze neoliberiste fa molta più fatica a svolgere quel ruolo mi sento di addossare particolari colpi al sindacato in questo senso vediamo altre domande ancora chiedo al nostro regista non ci sono domande allora chiudiamo con un'ultima domanda è una domanda ti faccio come se la facessi io stesso quindi domanda torniamo all'antropologia del lavoro che gli è il punto essenziale insomma di tutto il nostro ragionamento il lavoro come strumento necessario di mediazione tra l'uomo e la natura questo è il punto essenziale celebre traduzione di Cantimori è il punto che abbiamo ben chiaro in testa questa cosa qui il lavoro come mediazione fra l'uomo e la natura se per te vale ancora nella società dell'intelligenza artificiale della robotica generalizzata e via dicendo la società degli algoritmi dell'intelligenza artificiale della robotica eccetera eccetera certo è una mediazione molto complessa però una cosa secondo me bisogna tenere ben presente e devo dire che è una cosa di cui io mi sono reso conto sto parlando di Marx e non di quello che penso io questa questione che forse sarebbe rilevante ma Marx dice a un certo punto guardate che le macchine non sono fatte per perché c'è questa utopia la macchina a un certo punto risolverà tutti i problemi e quindi vivremo tutti bene i miei giovani colleghi mi dicono che esiste una corrente che si chiama accelerazionismo che parla in questi termini io non sono non sono sempre cioè non riesco a seguire tutte queste mode però la versione da incubo di questa lezione come tu sai benissimo insomma che questo porta distrugge il lavoro tutto sono i due poli estremi ma in realtà la mia impressione ma che intanto il lavoro è necessario alla società capitalistica cioè questo lo vediamo appunto dall'isterismo che la nostra confindustria è particolare diciamo rispetto a qualcosa di cialtronesco che insomma li rende anche un po' buffi però effettivamente quando c'è il pericolo che i lavoratori non vadano in fabbrica si scatenano altissime grida isteriche persino per un periodo limitato persino per mettere al sicuro la vita delle persone insomma ma dicevo per tornare a Marx la questione interessante di cui mi sono reso conto leggendo macchine grandi industrie il capitolo tredicesimo del capitale avevo già letto ma insomma ho fatto attenzione a questo punto cioè la macchina non serve a diminuire la fatica dell'uomo serve a sfruttare meglio cioè ad aumentare lo sfruttamento paradossalmente cioè noi siamo abituati a immaginarci una sorta di filosofia della storia in cui prima c'era il plus valore assoluto cioè prima gli imprenditori estendevano la giornata lavorativa poi con le macchine entra in gioco il plus valore relativo cioè l'intensificazione del lavoro in realtà a leggere bene non è così cioè in realtà plus valore assoluto e plus valore relativo si compenetrano e anzi dall'introduzione della macchina proprio per l'introduzione della macchina la giornata lavorativa si estende quanto più possibile vengono inventati i turni precisamente perché Marx lo spiega molto bene si deve ammortizzare la spesa fatta per comprare questa macchina e quindi in meno tempo si ammortizza in meno tempo si rientra del capitale investito e quindi questo impone dei ritmi disumani ma anche con l'algoritmo adesso anche qui bisognerebbe sentire dei sociologi del lavoro persone che fanno inchieste sul lavoro ma per esempio l'algoritmo da quello che so da articoli che leggo in realtà impongono quel lavoro astratto di cui parlavamo cioè impongono al lavoratore dei ritmi e mettono in concorrenza i lavoratori tra di loro per tenere i ritmi sempre più alti chi non tiene il ritmo viene automaticamente escluso per cui la macchina non è ciò che libera dal lavoro ma è ciò che in qualche modo è uno strumento per per estrarre ancora più tempo di plus lavoro mi sembra penso che possiamo chiudere qui come vedi io ho giocato come dire a rilanciare le domande che sono le riflessioni che attraversano in continuazione queste nostre letture e riletture di questi passaggi fondamentali della filosofia europea alla fine che di questo stiamo parlando passaggi fondamentali e sono quelli che probabilmente ancora ci aiutano a cercare di capire tante cose intorno a noi Vittorio grazie di cuore per la tua conversazione grazie a voi al prossimo appuntamento e grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti